Cresce la pressione internazionale su Bashar al-Assad perché lasci il potere. Oltre alla voce mai spenta della piazza e le sanzioni minacciate dalla Lega Araba, la Turchia ha annunciato nuove misure punitive, fra cui una tassa del 30% sulle merci provenienti dalla Siria. Persino l'Iran sarebbe attivando un canale di comunicazione con l'opposizione siriana, almeno secondo un collaboratore di Hillary Clinton, intervistato da un quotidiano israeliano. Noi non uccidiamo, la nostra gente ha detto Bashar al-Assad in un'intervista all'ABC. Nessun governo al mondo uccide la sua gente a meno che non sia presieduto da un folle. Io sono diventato presidente grazie al sostegno popolare. Non ci si può sentire colpevoli quando si fa del proprio meglio, ci si può dispiacere per le vite perse, ma non sentirsi colpevoli quando non si è ammazzato nessuno. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, la repressione delle manifestazioni di dissenso contro Bashar al-Assad ha fatto più di 4.000 morti.